What's up YouTube? Io sono Kite e bentornati a un nuovo video di Pokémon Trading Card Game Online. Oggi vi farò vedere un deck competitivo. Non è esattamente la mia cosa, io normalmente faccio deck strani, creativi, rogue, però è giusto anche far vedere i deck più forti del format e questo effettivamente mi ha fatto vincere qualche torneo. Naturalmente la lista l'ho composta io, quindi qualcosa di insolito magari lo troverete, però questo è un deck con un buon potenziale competitivo. Dunque, è un deck che gira intorno ai Pokémon di tipo Folletto e l'attaccante principale di questo deck è Mega Guard of War EX. Mega Guard of War EX è una mega evoluzione, quindi quando si gioca il turno finisce, oppure no, lo vedremo. E ha 210 HP, debole per 2 all'acciaio, resistente a meno 20 al buio, 2 energie come costo di ritirata e la mossa Brilliant Arrow. Questa mossa infligge 30 danni all'avversario per ogni energia che noi abbiamo in gioco. A prima vista non sembra tantissimo, ma pensiamoci, se abbiamo in gioco 5 energie, 30 per 5 è 150, se ne abbiamo 10, 300. Non è semplice ovviamente portare in gioco 10 energie, però se riusciamo 30 per 10, 300. Si Mega Evolve da Guard of War EX, eccolo qui, Life Leap 20 e si guariscono da Guard of War EX lo stesso montare di danno che si ha inflitto all'avversario, quindi contro dei draghi deboli al Folletto sarà 40. E Shining Winds per 3 energie Folletto 100 e l'avversario non può ritirare il Pokémon attivo durante il prossimo turno. Ma noi cercheremo di Mega Evolverlo sempre. Dunque, qual è lo svantaggio delle Mega Evoluzioni? Che quando Mega Evolve un Pokémon il turno finisce. Invece in questo deck abbiamo due copie di Guard of War Spirit Link. Il turno non termina nel momento in cui Mega Evolviamo Guard of War EX. Per cui noi potremo assegnare Guard of War Spirit Link a Guard of War EX Mega Evolvere e andare avanti con il nostro turno senza doverlo finire lì. Altri Pokémon. Come tutti i deck Folletto c'è Aromatis. Io gioco con l'abilità Fairy Transfer. Possiamo spostare l'energia Folletto da un Pokémon all'altro quante volte vogliamo durante il turno. Io gioco due copie di Aromatis perché quando abbiamo Aromatis in panchina l'avversario cerca di abbatterlo per fermare la sua abilità. Se invece ne giochiamo due tendono a concentrarsi di più sugli altri Pokémon, magari sui Pokémon EX che danno due premi e lasciano in pancia il nostro Aromatis che in realtà è il fulco del deck. Grazie all'abilità Fairy Transfer noi saremo in grado di spostare l'energia dove vogliamo e ci permetterà di usare le mosse che vogliamo quando vogliamo. Quindi questo è il punto più importante del deck. Gioco anche tre copie di Xerneas. Non gioco Xerneas EX perché sia buono come attaccante però è un EX che dà via due premi e non mi sembra forte quanto potrebbe essere. Il nostro attaccante principale rimane Mega Gordivore. Dunque Xerneas lo conosciamo. Geomancy è per un'energia a folletto. Possiamo selezionare due Pokémon sulla nostra panchina e assegnare un'energia a folletto dal deck a quei Pokémon a testa. Poi l'attacco Rainbow Spear, due energie a folletto una qualunque 100 e bisogna scattare un'energia. Cercheremo di non farlo. Io devo essere sincero non disdegno ad attaccare con Rainbow Spear, sinceramente, però cercheremo di non perdere energie più che possiamo. E poi tre altri Pokémon. Abbiamo un Kangaskhan EX, 180 HP. Candidate Kick, tre energie, 70 più 30 se esce di testa sul lancio di moneta. Ma io lo uso soprattutto per Triple Draw, per un'energia qualunque possiamo pescare tre carte e non è male. Abbiamo Corbink. Questo è un Pokémon secondo me sottovalutato. Per un'energia a folletto questo barrier si lancia una moneta e si esce di testa è immune da tutti gli effetti degli attacchi del Pokémon avversario. Ma soprattutto Wonder Blast. 40 punti di danno più 20 per ogni energia a folletto lo è assegnata. Quindi di base farà 40, 60, 80, 100 per tre energie a quello qui. Grande svantaggio di Corbink, solo 70 HP. E quindi cercheremo di usarlo il meno possibile, però come alternativa è buona. Invece di usare tre energie a folletto per Rainbow Spear di Xerneas e doverne scartare una, possiamo usare Wonder Blast sempre per 100 e stare attenti a non perderlo in torno successivo. Ora, tutti i Pokémon folletto sono deboli all'acciaio. Ma tutti i Pokémon acciaio sono deboli al fuoco. Quindi io ho scelto due copie di Ration Ramp come Pokémon in copertura, diciamo. Useremo soltanto Outrage perché non usiamo energia a fuoco. 20 danni più 10 per ogni segnalino di danno su Ration Ramp. Questo vorrà dire che farà 40 di base su tutti i Pokémon acciaio. C'è chi usa Charizard un RDX, però è un EX e ha bisogno sempre o quasi di energia a fuoco, quindi io preferisco Ration Ramp che con due energie. Molto semplice. Può usare Outrage e scoraggia anche l'avversario a danneggiarlo. Questo per quanto riguarda i Pokémon. Abbiamo 12 energie a folletto e basta, nessuna doppia in colore. Mi sembra più inefficiente usare la doppia in colore. Con Xernius possiamo cercare le energie a folletto. Con Arometis possiamo spostarle, quindi no. Io uso soltanto quelle base. Abbiamo un Energy Retrieval per recuperare le energie nella pila degli scarti. Abbiamo un Energy Switch. Qualche volta vorremmo scambiare un'energia prima di essere riusciti a portare in gioco Arometis. Questa è la risposta. E altrimenti la possiamo sempre scartare. Abbiamo tre copie di Soda. Vorrei usarne quattro, ma non c'è lo spazio per portare in gioco. Arometis ovviamente funziona anche su MegaGuarderware EX. Poi abbiamo quattro copie di Freshwater Set. A me piace molto questa carta. Guarisce 20 danni da tutti i tuoi Pokémon. Credo sia un'altra di quelle carte sottovalutate. E come Ace Pack abbiamo la Master Ball. Ace Pack sono dei trainer speciali. Se ne può usare soltanto una copia in tutto il deck. Io in questo deck ho scelto la Master Ball. Possiamo prendere un Pokémon qualunque nel deck e prenderlo in mano. Poi uso due Professor's Letter per cercare le energie. Un Starling Megaphone per sbarazzarci dei tool avversari. Sempre utile. E poi usiamo un Town Map. Questo perché qualche volta una carta fondamentale ci finisce nei premi e noi vorremmo ripescarla il prima possibile. Si tratta soprattutto di God of War EX. Io uso una linea 1-1 di God of War e MegaGuard of War. Perché comunque sono degli EX che danno via due premi. Non sono facili subito da caricare. Quindi 1-1 può bastare. E con Town Map le possiamo recuperare alla prima occasione. Uso due Lysandar. Due. Per tirare su magari Pokémon EX che danno via due premi. Oppure altri Pokémon che ci danno fastidio Gorbador o per spingere in panchina un Pyroar che non vogliamo eccetera. Lysandar's Trump card. Questa carta mi piace moltissimo. Ogni giocatore, entrambi giocatori, prendono tutte le carte nella loro pila degli scarti e le rimiscano nel deck. Questo ci è molto utile per recuperare delle carte che abbiamo già usato. Se perdiamo MegaGuard of War EX, bene o male è il modo più efficiente per recuperarlo. Perché se usassi Max Revive per esempio potrei prendere soltanto un Pokémon e metterlo in cima al deck. E non mi basta. Con Lysandar's Trump card riusciremo a recuperare tutto senza problemi. Due copie di N. Sono abituato a usarne 4 però in questo caso ne uso due perché uso anche due copie di teammates. Quando nel turno precedente abbiamo perso un Pokémon possiamo cercare due carte nel deck. Quelle che vogliamo e prenderle in mano senza mostrare l'avversario. Molto potente questa carta. Credo che la userò sempre. E poi abbiamo quattro Professor Sycamore per cambiare la mano. Abbiamo due Pokémon Fan Club. Molto utile per cercare gli Aromatis, per cercare God of War EX o Rashiram o Xerneas. Quello che vogliamo. Usiamo due copie di Fairy Garden. Grazie a questa tutti i Pokémon con un'energia folletto assegnata possono ritirare gratis. E ovviamente se non ce l'hanno gliela diamo con Aromatis. E abbiamo due God of War Spirit Link. E abbiamo un Heart Charm. Anche questa è una carta sottovalutata. Il Pokémon con Heart Charm assegnato subisce 20 danni meno ogni attacco. Questo ci servirà per esempio per Xerneas per usare più volte Geomancy. Oppure per Carbink per farlo sopravvivere ancora un po'. O semplicemente ad Aromatis se non vogliamo perderlo in un colpo solo e pensiamo che stia arrivando un Ice Hammer da qualche parte. E tre Muscle Band. Ne uso quattro di solito. In questo caso ho fatto spazio a Heart Charm. Muscle Band. Il Pokémon con Muscle Band assegnato assegna 20 danni in più ogni mossa. Questo è tutto il deck. E ora vi farò vedere una partita che sono riuscito a fare con questo deck. Eccoci qui. Questa è la prima delle partite del torneo che ho conseguito con questo deck. Per questo video vi farò vedere solo questo. forse in futuro qualche altra. Comunque. Vediamo che nella prima mano ho solo Reshiram come Pokémon base che diventerà il nostro attivo. Vediamo che ho N. Ho un Pokémon Fan Club. L'Oisandr's Trump Card come supporter. Poi ho Energy Retrieval. God of War Spirit Link e Town Map. Ho pescato Aromatis. Potrei usare N. Subito preferisco andare con il Pokémon Fan Club e cercare due sprizzi. Molto importante portare in gioco due Aromatis il prima possibile. Come già detto. Vediamo che l'avversario usa Pokémon metallo. Ho detto acciaio in precedenza. In realtà in questo gioco si chiama metallo. Durant del Team Plasma è uno Scammery. Quindi dovrò fare attenzione. Fortuna che Reshiram è il nostro primo Pokémon attivo. Quindi non appena avrà due energie potrà attaccare e colpirli in modo super efficace. Peccato che l'energia non ne ho ancora. Vediamo un'energia metallo. Un Charon. Quindi pesca tre carte all'avversario. Poi Call for Backup. Può cercare un Pokémon nel suo deck e prenderlo in mano. Adesso si starà guardando le deck per capire più o meno che cos'ha nei premi. Io spero di riuscire a portare in gioco Aromatis presto. Magari Xerneas per caricare le energie. L'energia è la cosa più importante in questo momento che mi serve. Dunque questo mi sembra un buon momento per usare N. Intanto ho pescato un'energia. la signora Reshiram. Posso evolvere uno Spritzy in Aromatis. Posso anche usare Town Map prima di cambiare la mano. Mi sembra una buona scelta così non devo nemmeno impazzire a cercare nel deck e non me la ritrovo più avanti. Dunque abbiamo tre energie. Fairy Gordon e Evo Soda. Evo Soda la posso usare. E così al secondo turno due Aromatis. meglio di così non si può. Certo avrei potuto avere un esempio. Comunque Fairy Gordon me la tengo stretta un attimo. Non sono sicuro se anche lui usa degli stadium e preferisco non sprecarla. Ecco un onyx e un riolo. onyx debole all'erba. Quindi non ho super efficace contro di loro. Riolo e debole allo psico. Un'energia lotta su onyx. e anche Rocky Helmet quindi se lo colpisco prendo 20 danni. Beh l'ultima cosa di cui Reshiram ha paura è Rocky Helmet. Più è danneggiato Reshiram e più forte sarà Outrage. Vediamo un altro call for backup. è di nuovo Groudon. Tocca di nuovo a me. Beh ho Starlight Megaphone. Intanto segno un'energia a Reshiram. Starlight Megaphone potrei usarlo per togliere Rocky Helmet a onyx. Perché no? possiamo finalmente attaccare Outrage. 20x2.40. Ancora 30 HP durante. Vediamo che viene giù il Groudon. Sulla panchina. E un altro è già rotto su onyx. Lo sta chiaramente caricando. E un altro call for backup. prendere un altro Pokémon. Vedremo che cosa sceglierà. Lucario. Ah Lucario con l'abilità. Io ho solo Sycamore. Allora segno un'energia. E gioco Fairy Garden. Potrei usare Sycamore e scartare Megagord War EX. Non è la cosa ideale da fare. Preferisco prendere intanto un premio. Con Outrage. Magari Xerneas. Con cui portare in gioco più energie. E più avanti nella partita. Magari Megagord War EX. Potrà fare molti danni alla Vesara. Dunque vediamo che viene su onyx. Con due energie lotta. E adesso l'energia metallo. Vedremo se sì. Ecco Lucario. Lucario è abbastanza spaventoso. Perché quel Lucario si ha delle energie metallo assegnate. Conta sia come tipo lotta sia come tipo metallo. E quindi sarà super efficace sui nostri folletti. Dunque. Prima cosa metto giù Zernius. E gli do un'energia. E a questo punto mi trovo costretto a usare Sycamore. Perché non ho niente di utile. Scarto Mega Guard War EX. E magari la recupererò con L'Ice and Strong Guard. Assegno Heart Charm a Zernius. E la cosa più intelligente da fare mi sembra non attaccare onyx. Bensì portare energie in gioco con Zernius. Quindi ritiro Reshiram. E uso Geomancy. Una su Aromatis. Una su Reshiram. No forse ho cliccato i due Aromatis. Non fa niente. Le potrò spostare come voglio. Questa mi sembra la scelta giusta. Zernius può prendere qualche colpo senza finire KO. E intanto io uso Geomancy e porto in gioco molte energie. Che successivamente sposterò con Aromatis. Vediamo un'altra energia su Onyx. Swing around. 60 per ogni testa. E escono due volte a croce. Quindi 0. Fantastico. Un altro turno per Zernius. Eccola Master Ball. Mi serviva proprio. Vado a prendermi God of War EX. E ora è solo questione di pescare Lysandus Trump Guard. E magari God of War Spirit Link. Assegno un'energia a God of War. La Muscle Band non ancora. Uso Geomancy. Una Aromatis e una su God of War EX. Vediamo che sono rimaste tre energie nel mio deck. Infatti una ce l'ho in mano e una nei premi. Quindi abbiamo già due, quattro, sei, otto, nove energie in gioco. In soltanto tre, quattro turni quindi. Questo sì che è qualcosa di cui vantarsi. Vediamo che abbiamo Evo Soda. Non ci serve. Ansegniamo l'energia a Folletto a God of War EX. Sono per usare Evo Soda. Giusto per non ritrovarmela dopo. Se l'avversario pesca N. Lui potrà prendere 6 carte. Io 5. E avrò ancora una Evo Soda nel deck che non posso usare. Perché ho già i due Aromatis in gioco. E so che Mega God of War EX è nella pietra degli scarti. Quindi è meglio sbarzarsene. Tanto se avrò la possibilità di usare l'Ice Under Storm Card. Lo recupero. Stavo guardando un attimo Onyx e Lucario. Infatti è Duo Armor. Se ha un'energia a metallo assegnata conta anche come tipo metallo. Quel Lucario è la mia più grande preoccupazione al momento. Rappresenta la piaccia più consistente. Ho un'idea. Gioco KangSkan EX. Lo scambio. Gratis. Perché Zhonius ha un'energia a Folletto assegnata. Fairy Guard me lo consente. Gli uso Triple Draw per pescare 3 carte. E pescando pescando arriverò sicuramente a prendere l'Ice Under Storm Card e magari God of War a Spirit Link. Dunque. Anche perché con l'Ice Under Storm Card rientrano nel deck la Master Ball, la Evo Soda. Quindi ci sarà buona possibilità di Mega Evolver dopo. Eccola. L'Ice Under Storm Card. Benissimo. Tutte le carte dalla pila degli scarti di nuovo nel deck. E vale anche per l'avversario. E ora posso usare Triple Draw finché non pesco quello che mi serve. Sto pensando di assegnare una Muscle Band. Però non mi sembra la cosa migliore da fare. E uso Fresh Water Set perché sì potrei curare Zhonius ma curerei anche Reshiram. E preferisco che ci sia un po' di dama su Reshiram. Uso Triple Draw. E ho l'Ivo Soda. Quindi volendo Omega Guard of War può entrare in gioco. Però vediamo due testa su Wing Around. E Polkeng Scan Debole alla lotta. E messo al tappeto la pesante. Quindi due premi. Ma io posso mandare avanti God of War EX e usare Teammates per prendermi due carte che voglio dal deck alla mano. Sto pensando se usare Evo Soda ma... No me lo tolgo subito dalla testa. Teammates. Prendo God of War Spirit Link e Mega God of War EX. Eccola lì. Prima cosa. Assegno God of War Spirit Link Mega Volvo in Mega God of War EX. E il nostro turno non termina qui. Quindi posso continuare. Sto pensando se giocare un Pokémon in panchina o se usare Energy Retrieval ma soltanto un'energia nella pena degli scarti non ne vale veramente la pena. Posso usare Brilliant Arrow 270. E infatti 30 per 9. E prendo 20 danni da Rocky Helmet. Ma è l'ultima delle mie prime. Prendo l'energia. Come Dremel. Io spero... Ok. Ha mandato avanti Scamery. Quindi non ha l'energia metallo pronta per Lucaria. Ancora. Ancora. Vediamo Landorus EX in panchina. Cheren. Oh oh oh. Questo gli aumenta le probabilità di pescarla. Vediamo. Un altro Scamery. Se non riesce ad assegnare un'energia metallo a Lucario io posso tranquillamente prendere premi ogni turno perché è un attaccante talmente potente in questo momento. Gioca la Ultraball. Scartando N e Pokémon Centro Lady. Scelta strana. Io non l'avrei fatto perché comunque Pokémon lui pesca. Quindi può essere utile. Forse l'ha fatto soltanto per sfoltire il deck. Ma non lo so. Avrebbe anche potuto aspettare e usare N nel turno successivo. Comunque. Ho tutti e quattro il Freshwater Set. Io uso uno per curare N nel World of War EX. E Zonius. E anche il Rasheram. Quello è il lato negativo. Però io ho un'idea. Secondo me è meglio attaccare con Rasheram questo turno. Dunque. Tanto assegno un'energia a Zonius. È meglio attaccare con Rasheram questo turno così attacco in modo super efficace. Perché con la Masso Band faccio 20 più 10 per 2. No. Scusate. 20 più 10 più 10 per 2. Quindi 100. E così non mi ritrovo con Mega Gordewar come Pokémon attivo. Che potrebbe prendere seri danni da Lucario. Infatti ecco l'energia a metallo sul Lucario. Ora mi preoccupo. N. Perdo moltissime carte. Vado giù a 3. Ah! 2 Seca More. Perfetto. Un Sparkling Rope su Lucario. Che non potrà essere effetto da condizioni speciali. Ha già assegnato l'energia. E deve passare il turno. Io pesco Xerneas. Non lo gioco. Ho già un Xerneas buono. Sulla panchina anche se ha 20 danni. Uso Seca More. Preferisco magari un altro Rush Band. Eccolo là. E attacco con Outrate. Sempre 50 per 200. E prendo la Masso Band. Con il premio. Mi sembra la cosa migliore. E vediamo chi arriva. Eccolo. Big Bad Lucario. Ma io ho Lysander in mano. Posso tirare su Landry CX che ha 180 HP. E metterlo al tappeto con Mega Guard of War EX. In quel caso avrei vinto. Attendo solo la possibilità. Infatti Lucario mette giù Reshiram. Io mando avanti Mega Guard of War EX. E vediamo che cosa pesco. E non so. Non mi servo. Uso Lysander. Voglio Landry CX come attivo. Uso anche Freshwater Set per curare Xerneas. Tanto per. E ora. Brilliant Arrow. Per 240. Prendo due premi. E abbiamo vinto la partita. Mega Guard of War EX. Questo deck funziona molto bene. Avete visto quante energie siamo riusciti a portare in gioco. che ignoriamo questo. E vinco una sorpresa. Allora io vi ringrazio moltissimo per aver seguito questo deck. Mi piace tantissimo da usare. Faccio vedere le statistiche. E la sorpresa. Mettete mi piace sul canale YouTube. Sulla pagina Facebook. Io sono Kite. E out. A لا. Ciao.